Amici di Corse di MotoTV, siamo a De Ruta e nel paddock è arrivato in mezzo alle nebbie, Maurizio Botalico. Ciao Maurizio. Ciao ragazzi, ciao Phil. Allora, lo sapete tutti, quest'anno Maurizio non correrà nell'italiano, hai vinto per anni tra l'italiano e l'europeo, ti dedicherai ad altro che poi ci spiegherai, ma intanto come stai perché sei vittima, sei riduce dell'incidente al hashtag, insomma, quali sono le condizioni al momento? Allora, le condizioni sono abbastanza buone e sono molto positive perché comunque ho riportato una frattura alla testa del femore e tre al bacino, quindi già dopo 14 giorni stare in piedi e muovermi in autonomia è già un grande risultato. Ho operato in Austria, poi sei tornato chiaramente a San Marino e mi dicevi, va bene adesso il Manx è a fine agosto, sappiamo che il recupero ci sarà per agosto, però in realtà i medici hanno detto ci vogliono un po' di mesi ma tu hai un obiettivo che è la seconda dell'europeo Yulbach. Allora, sicuramente come in tutte le cose lo sai, io mi fisso sempre i miei obiettivi, l'obiettivo principale e primario ovviamente è il Manx ad agosto, per cui non vado a pregiudicare quella cosa per fare altro, però se per metà giugno riesco a sentirmi in forma, a stare bene e partecipare alla seconda dell'europeo in Austria, sicuramente ci vado. Allora, guardando le immagini dell'incidente che ti è accaduto, sei un pilota che presenta in tanti anni qui al CVS, ma anche in Europa e all'isola, neanche una scivolata, mai nulla, ecco, terreno bagnato, asfalto bagnato, un problema tecnico immagino. Allora sì, per fortuna in sei anni di road race mai neanche una scivolata a 10 km orari, sicuramente le condizioni erano proibitive, per me quella strada bagnata, bagnata e abbastanza rischiosa, però si poteva salire, il problema è stato all'elettronica perché il traction praticamente non ha funzionato, quindi io nel momento in cui stavo uscendo dalla curva e ho fatto quello che dovevo fare, quindi accelerare, la moto ha risposto al 100% e quindi mi ha lanciato in aria. Che poi mi dicevi che in realtà vi è avuto qualche minuto prima già il sentore che qualcosa dell'elettronica non fosse proprio in quadro perché mi dicevi che ingaggiando il launch control c'era stato un qualcosina che non funzionava. Sì, infatti avevo attaccato il launch control prima di uscire dalla casa dove eravamo e quando sono arrivato in partenza, io per abitudine faccio sempre una prova e non ha funzionato, però la luce, la spia era attiva sul cruscotto, quindi ho dovuto reinserirlo. Alla fine è successo alla prima curva l'incidente, quindi non ho avuto neanche modo, sai, una visaglia, dici cavolo, che sta succedendo? No, alla prima curva, bam, la prima accelerata secca è partita. Guardando sempre il bicchiere mezzo pieno, Mauri, è vero che è successa la prima curva, però conoscendo il layout del trazione dell'Ansetac, molto veloce, le condizioni schifose, è fortuna che è successo lì perché se va a fallire il controllo elettronico della trazione in un punto più veloce, lì insomma siamo ai livelli dell'isola. Ah, sicuramente, anche perché con la 1000 si superano i 300 km orari, per cui nella sfortuna diciamo che sono stato anche fortunato. Sei stato un po' fortunato, va bene, adesso auguri il protaguarigione, ma sappiamo che hai dei recuperi velocissimi, sei all'italiano, sei venuto, perché? Beh, c'è un motivo, non è che sei venuto qui in vacanza, perché? Segui dei piloti quest'anno là. Spiega un po' cosa stai facendo, qual è il progetto e chi sono? Allora, il progetto è quello di creare una struttura che parte dal campionato italiano e dà la possibilità a un pilota di arrivare fino all'isola di Mann. Ovviamente con l'esperienza che io mi sono fatto in questi anni, cerco di metterla a disposizione soprattutto di ragazzi nuovi, perché fondamentalmente il mio intento, lo sai com'è? È facile prendere un pilota che già va forte, già vincenti, ciao ho vinto. La scommessa non è quella. La mia scommessa personale è soprattutto prendere ragazzi alle prime armi, innanzitutto portarli in questo mondo, perché è un mondo fantastico, farlo conoscere e dargli la possibilità di crescere. E tra l'altro, scorrendo la lista di nomi, ti piace scommettere forte, nel senso sono appassionati, chiaramente amatori, però un nome su tutti, o la Simona Castelli o Vitas Frigobabi, insomma, sono proprio da formare. Cioè, sì, vanno in pista, girano, è un po' di anni che frequento il CVS, però da lì a portarli, adesso senza dell'isola di Mann, a competizioni o comunque fagli ottenere dei bei tempi, immagino che il lavoro sia capillare e piuttosto complicato. Assolutamente sì, però è il lavoro che ti dà più gusto e soprattutto mi fa anche capire il mio livello, perché lo sai, io mi metto sempre in gioco, in qualsiasi ambiente, nelle gare, nel lavoro. Per cui, per me è motivo di grande orgoglio lavorare con ragazzi del genere, cioè, per dire, hai nominato Vitas, quest'anno, lui rispetto all'anno scorso, ha tolto 15 secondi qui a Deruta. E sono tanti, è vero che lui comunque ne ha tanti di differenza, magari dai primissimi, però è anche vero che togliere 15 secondi per una persona normale è tantissimo. È tantissimo, abbiamo citato la Simona Castelli e Vitas Frigobabbi, Sabrina Carlucci, gli altri? Allora, Marco Legramandi, Giuseppe D'Amato e Fabio Brando. E Fabio Brando, che in realtà è poi una vecchia conoscenza, quindi sei piloti. Senti, ma quest'anno è arrivato Salvadori, vabbè, l'avevi già incrociata Volterra. Non c'è un po' il rammarico, Mauri, no, in quest'anno, sappiamo cosa muove Salvadori, nasconderci dietro un dito. Non c'è un po' il rammarico, no, di aver lasciato l'italiano nel momento in cui ci potrebbe essere una sfida bella, ma soprattutto una sfida mediatica, perché poi serve a questo mondo, no, un po' di spinta. Tu gli hai dato spinta con i tuoi social per anni, adesso è arrivato un po' il re di queste cose. Sarebbe stato bello vedere questa relazione? Allora, sicuramente se la mettiamo sotto questo punto di vista, un minimo di rammarico c'è. Però comunque io penso ai miei progetti, al mio futuro, quindi io sono concentrato sulla mia linea di lavoro. Sul piano sportivo e agonistico, io comunque in questi anni mi sono battuto contro i migliori che sono stati i piloti di questa categoria e di questo mondo, per cui sotto quel punto di vista non ho assolutamente nessun rammarico. E poi, oh, magari lui parte dal campionato italiano, lo aspetto su all'isola. Ecco, ma ci arriverà prima o poi, lo sai. L'anno scorso mi dicevi che sì, non l'avresti fatto l'italiano, però ti hai ritenuto da parte magari una qualche wildcard, cioè non avevi escluso la possibilità di dire magari a Spoleto qualcosa. C'è ancora questo progetto al netto dell'infortunio oppure l'hai un attimo accantonato? Ma guarda, sicuramente Spoleto comunque rientra nel campionato europeo, per cui se rientro nel campionato europeo è una gara che sicuramente farò. Ovviamente nelle condizioni del campionato europeo, perché tu sai che per regolamento bisogna correre con le gomme intagliate e anche lì c'è un grosso gap rispetto a una slick, perché l'intagliata adesso si produce solo in SC1, per cui fai un po' fatica, soprattutto nella classe 1000. Però quella sicuramente sarà una gara che se rientro in quel campionato la faccio. Ultima cosa Mauri, classi previste per il Manx, dove pensi di ripetere l'esperienza l'anno scorso, c'è qualche novità? Rida, c'è qualche novità. Rida anche dietro. Allora, ti confermo la classe Senior Super Sport, con la Kawasaki del team MotoZoo, e ti confermo la 400 con la Kawasaki 400, quattro cilindri la nuova. Quindi è andata in porto? Andata in porto, perché era un progetto che ne parlavamo quest'inverno. È andata in porto il 400? Sì, è andata in porto. E poi fra un po' ti racconterò di un'altra situazione che siccome c'è un grosso retroscena che mi piacerebbe molto far uscire perché è un retroscena che è negativo e fa male a questo sport, preferisco parlarne poi con calma, con te, e con le dovute attenzioni perché è un qualcosa che voglio far uscire fuori perché merita di far conoscere questo retroscena, a mio avviso molto brutto e che fa tanto male a questo sport. Però per il momento ancora non ti dico nulla. Mazza, hai lasciato sto bombone così, poi quando mi dici con questo tono è roba grossa. Sì, sì, penso che in sei anni che io sto in questo mondo sia la cosa più grossa e più brutta soprattutto che mi sia capitata. No, giuro, non so nulla, posso provare a immaginare, ci sarà coinvolto qualche altro pilota chiaramente di questa disciplina che ha provato a farti uno sgambetto? No, no, in questo contesto non c'entra nessun pilota. Però ti ripeto, è una cosa che fa male proprio allo sport, all'ambiente e ci tengo veramente personalmente a farla uscire fuori. Allora adesso, quando la facciamo uscire questa cosa? La facciamo uscire dopo il Manx. Ah, dopo il Manx, allora a settembre ragazzi, bisogna aspettare ancora un po', dai, quattro mesetti. C'è curiosità terrificante. Capirai e capirete poi perché ti dico dopo il Manx, però ti dico che ne varrà la pena. Ma è risolta, cioè nel senso è risolta, quindi è archiviata e vuoi parlare o è ancora in corso questa situazione? Allora, lo sai che alla fine Bottalico poi non dorme neanche la notte per risolvere le cose, quindi in qualche modo io le cose le risolvo. Però ti ripeto, ci tengo a far uscire fuori questa cosa. Ovviamente non è che mi nascondo dietro un dito, cioè io farò nomi e cognomi senza problemi. Ecco là, ci vediamo a settembre ragazzi, i nomi e cognomi a settembre. L'accompagna lo sa, lo sa, casa lo sa, l'elenata lo sa. Lei sa tutto, è l'unica persona che sa tutto. Va bene, ci vediamo prima di settembre, chiaramente. A settembre dopo il Manx? Sì, già lo so che lo trovo fuori alla porta di casa. Ciao Mauri. Ciao Phil. Grazie.